Una vasta area di alta pressione interessa l'Europa centrale e l'Italia, garantendo condizioni di stabilità, nessuna variazione attesa fino a mercoledì. In Toscana, domenica 3 novembre, poco nuvoloso per velature temporanee e addensamenti sui versanti Emiliano-Romagnoli dell'Appennino. Venti deboli da nord-est con locali rinforzi, mari poco mossi, localmente mossi a largo. Temperature minime stazionari o in lieve calo in montagna, massime in lieve calo sui rilievi, stazionari altrove in versione termica nelle vallate. In provincia di Lucca cielo sereno. A Lucca e sulla Piana, temperatura minima 8, massima 22 gradi. A Castelnuovo di Garfagnana e zone montane, minima 6, massima 21 gradi. A Viareggio e sul Litorale, minima 10, massima 21 gradi. A Massacarrara, cielo sereno, temperatura minima 10, massima 21 gradi.